Intervengono sempre in emergenza, spesso devono salvare persone in reale pericolo di vita, ma non sanno mai che cosa troveranno quando si lanciano a sirene spiegate verso il luogo dove questa emergenza è scattata. Ci sono però situazioni più delicate di altre, come l'intervento per salvare persone già fragili a prescindere. Soprattutto per questo i vigili del fuoco di Pordenone, Ascoli e Genova hanno organizzato in collaborazione con l'AESM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un'esercitazione in merito al soccorso a persone affette da sclerosi multipla, ipotizzando tre scenari di intervento in ambiente domestico. Nella prima simulazione, a seguito di un evento sismico, è stata evacuata una persona in sede rotelle da un appartamento utilizzando le scale interne del condominio. Seconda prova, simile alla precedente, ma cambia la manovra di evacuazione. Vincolati all'autoscala, i vigili del fuoco hanno portato al sicuro con tecnica e speleo una donna dal quinto piano dell'edificio. I pompieri in questo caso usano la massima delicatezza ed empatia. La persona soccorsa non viene mai lasciata sola. Nella terza simulazione, infine, sono state salvate quattro persone, ognuna in una stanza differente dell'abitazione. Una volta localizzate, la squadra le ha condotte fuori dalla struttura. E un episodio reale si è verificato, tra l'altro, proprio nelle scorse ore, quando un uomo ha perso il controllo della sua sede rotelle e ha rischiato di finire in acqua. Teatro dell'accaduto, la pista ciclabile adiacente al Muson dei Sassi, nel comune di Vigo d'Arzele, nel Padovano. L'uomo ha perso il controllo della carrozzina ed arruzzolato lungo il pendio, fermandosi poco prima dello scolo pieno d'acqua. Soccorso da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme poi dai vigili del fuoco, i quali, arrivati da Padova con il personale sanitario della Croce Rossa, lo hanno liberato dalle cinture della carrozzina e, dopo averlo stabilizzato, l'hanno riportato in strada per essere trasferito in ospedale per ulteriori controlli.